Dovete, dovete andare a zappare la terra, a fare in culo, avete rotto le palle, tutti, tutti, tutti giocatori, allenatore, tutti, mi avete rotto i coglioni. Poi è inutile che andate ai microfoni. Sì, abbiamo capito, noi dobbiamo dare di più, la prossima volta daremo di più e poi abbiamo fatto riunione di spogliatoio e poi sì, questa sera dobbiamo dare il massimo e sì, dalla prossima non possiamo permetterci di perdere e no, noi abbiamo capito dove abbiamo sbagliato, andate a fare in culo, andate a fare in culo, a fare in culo dovete andare, avete rotto il cazzo. Siete una squadra mentalmente mediocre, una squadra mentalmente mediocre e i fenomeni di YouTube, i grandi fenomeni di YouTube, che ne sanno una più del diavolo, andate a rompere ancora il cazzo Inzaghi, aspettate, aspettate che io vi vedo già, eh ma Inzaghi! Inzaghi deve andare a fare in culo il prima possibile. Premettiamo questo, Inzaghi deve andare via il prima possibile, va bene, vi è chiaro questo? Inzaghi deve andare via il prima possibile perché non è un allenatore da Inter e fin qua ci siamo. Ma i giocatori? Ma i giocatori? Li possiamo mettere in mezzo, sti cazzo di giocatori? O bisogna sempre scusarli? Eh, scusa, eh, vi ho toccato i giocatori, scusate, 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 vi ho toccato Barellino, vi ho toccato Lautaro, chi vi ho toccato? E di Marco, Gosens, Onana, Andanovic, chi vi ho toccato? Ditemi! Cazzo, sembrate innamorati dei giocatori, cavolo! Questa si ama! Questo qui si ama! Non i giocatori, o gli allenatori! Questa! I giocatori hanno rotto il cazzo, come ha rotto il cazzo l'allenatore! Quindi, cari fenomeni di YouTube, iniziate a rompere il cazzo non solo a Inzaghi, ma anche ai giocatori! Iniziate a rompere le palle e a prendervela anche con i giocatori! Avete rotto i coglioni? Perché io stesso ho rotto i coglioni! Inzaghi? Oh, ma metti tre punte! Perché non metti mai tre punte, Inzaghi? Ti caghi sotto, Inzaghi! E papà, Inzaghi! Quattro punte! Oggi avevamo quattro punte in campo! Lukaku, Lautaro, Dzeko, Carboni, quattro! Più Di Marco, che è offensivo! Più Duflis che è offensivo! C'era no, Luca è offensivo! Oh, c'era solo bastoni dietro! C'era solo bastoni! Abbiamo messo 500 attaccanti! Tutti i giocatori offensivi che avevamo! Vi va bene o non vi va bene manco questo? Ditemelo! Statistiche alla mano! 28 tiri! 28 tiri a 4! 28 tiri a 4! 7 tiri in porta a 2! 69% di possesso palla questi sono stati in grado di vincere con due tiri in porta e due gol! Due tiri in porta e due gol! Lautà, Lautà, ascoltami! Se il rigorista è Romelu Lukaku, i rigori li tira Romelu Lukaku! Punto! Non che arrivi tu, bello garuccio, gli freghi il pallone! Perché l'abbiamo visto che Lukaku si è girato verso la porta a dire «So io, eh, ma la presa che ci posso fare!» Quindi, Lautaro, con tutto il bene che ti voglio Se c'è rigorista Lukaku, batte Lukaku! Poi magari lo sbagliava, eh! Poi magari Lukaku lo sbagliava, probabile, non lo so! Ma se il rigorista designato è Lukaku, lo batte Lukaku! Punto! Queste cose mi fanno incazzare! Cioè, noi potevamo andare in vantaggio subito al quattordicesimo Tutti i rigori ci stanno, sia i due dell'Inter che con lo Spezia Noi, Polli, noi Polli, perché uno a uno Con tutto l'ambaradam di arsenale che avevamo Potevamo comunque provare a vincerla E abbiamo regalato un rigore stupido! Un rigore stupido! Se non prendono provvedimenti Qualunque esso sia Io mi incazzo Dovete andare sotto la sede voi che potete Curva! 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 Invece di andare sotto la sede per non vendere scrignat Andate adesso sotto la sede a rompere i coglioni! Andate adesso a rompere i coglioni! Invece di andare per non vendere scrignat Che poi ve l'ha messo al culo Andate adesso perché l'allenatore ha rotto i coglioni! I giocatori hanno rotto i coglioni! La società ha fatto un lavoro di merda! Siamo l'unica squadra che non ha giocatori da uno contro uno! Siamo mi pare l'ultima in classifica per dribbling riusciti! Una squadra costruita a cazzo! Perché tu puoi avere 500 attaccanti dentro Ma se non hai giocatori che puntano all'uomo Tu l'unica cosa che puoi fare PUM! Butta dentro l'aria il pallone! PUM! Butta dentro il pallone in aria! BUM! Pallone in aria! BUM! Perché? Perché tanto tu giocatori Che vanno sull'uno contro uno Non ne hai Quindi tu scartare l'uomo Non riesci Quindi devi far girare palla Ma se loro sono tutti Con 300 pullman Giustamente Anzi Complimenti al Bologna E complimenti a Anzolà Complimenti a Anzolà Che poi Mamma mia ragazzi Ha fatto sul primo gol Tutto a merito suo La doppietta sul rigore E c'è stata un'azione dove ha fatto fuori 3-4 giocatori dell'Inter Complimenti allo Spezia E complimenti a Sempice E complimenti a Anzolà Soprattutto Che giocatore Che giocatore ragazzi L'avevo già detto all'inizio anno Però noi no Eh noi Andiamo a prendere I cazzoni Andiamo a prendere quelli Che non servono Una ceppa di minchia Io Non ho parole Non ho parole Cioè Ci rischiamo Di andare Quinti Perché la Lazio Vince Ci supera La Roma e il Milan Vincono e ci agguantano Se la Taranto C'era Imbarazzante Ottava sconfitta Ottava sconfitta In campionato Ma mi spiegate a me Che cazzo Me ne frega Passare col porto E poi Perdere Con lo Spezia Ma mi spie Ma chi se ne frega Della Champions Ma chi se ne frega Di passare in Champions Se dobbiamo perdere Punti In campionato Ma chi se ne frega Che se ne frega La Champions Tanto non la vinceremo Non me ne frega Un cazzo Usciamo da sta cazzo I Champions Ma giochiamo con tutti I titolari E tutto Alla massima forza Invece di stancarci Che cazzo Me ne frega Dobbiamo andare a perdere Da qua Da qua Fino a fine stagione Veramente Diogano Tutti sotto la sede Bisogna andare Perché Questi qua Stanno disonorando La maglia Questi qua Sono dei Parla parla Che vanno davanti I microfoni A parlare Parla 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 E poi in campo Non mettono I coglioni Cioè io vedo Gli avversari Che sono lì Col sudore Agli occhi Proprio Col sudore Il sangue Agli occhi Il coltello Fra i venti Aizzare la folla A lottare E noi lì Pap 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 Oh Ma vi svegliate Do c'è fuori In faccia Due ceffoni In faccia Vi dovete svegliare Sveglia Sveglia Tutti quanti Sveglia Allenatore Che Per l'amor di Dio L'unica cosa Che io posso A dire in zag È che non dà In motivazione Che non dà In motivazione Che non dà grinta Però ragazzi Questi sono professionisti Ma questi Sono dei professionisti Hanno fatto Ventotto Tiri A quattro Ventotto Ma io che cazzo Li devo dire In zaghi In zaghi Ha rotti i coglioni Non tiene alta La concentrazione Non tiene alta La motivazione È sotto tutto D'accordo E quindi è per questo Che va cambiato A parte che il modulo Ma ha rotti i coglioni Ma è per questo Che va cambiato Perché non è un allenatore Che tiene alta La sticella Durante la partita O comunque Non tiene alta La sticella Non tiene alta La tensione Ok E va bene Ma ragazzi Ste partite Le perdono i giocatori Ma non scherziamo Queste partite Le perdono Principalmente I giocatori Perché il allenatore Ha fatto la partita Ha messo in campo La squadra E ha messo in modo tale Da fare una partita Che noi abbiamo fatto 28 Tira a 4 70% Possesso palla Vuol dire Che inzaghi In campo E la preparazione La partita Le ha messe Bene Perché se tu Domini una partita Vuol dire Che la partita L'hai preparata Bene Ma se poi I giocatori in campo Fanno le cappellate Questo modulo Ha rotti i coglioni Ha rotti i coglioni Ma siamo sempre Sbilanciati Ma ragazzi Ma da un Rinvio di Dragoschi Ma da un Rinvio di Dragoschi È nato il primo gol Ma stiamo scherzando Inutile Inutile Vergogna 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 Grazie a tutti